Ciao a tutti, bentrovati. Vado subito a salutare Mario Romani. Mario, allora ieri ci siamo lasciati con un discorso in sospeso che vorrei continuare ad approfondire perché abbiamo parlato del confronto, dell'associazione con l'arte pop, con la pop art. Mario Romani realizza i ritratti di due icone pop alla fine, da una parte Madeline, dall'altra Madonna e quindi siamo arrivati a parlare di World, siamo arrivati a parlare della pop art che in realtà utilizza le tecniche dell'aerografia. Ecco, mi farebbe piacere che tu continuassi a parlare di questo e in che termini? E poi ovviamente arriviamo al ritratto di cui parlavamo ieri, che è quello alle nostre spalle, per analizzarlo meglio perché ci sono tantissime particolari da non sottovalutare. Certo, allora il discorso della pop art è legato al movimento che si creò negli anni 70 e successivamente negli Stati Uniti. Andy Warhol come genio esregolatezza e una serie di artisti americani che si sono poi dati all'iperrealismo hanno un pochettino tracciato le linee guida di quello che poi è stato anche in Europa l'esplosione dell'aerografia. L'aerografia è arrivata alla pubblicità per merito di questa generazione di artisti, perché? Perché già negli anni 60-70 illustratori che usavano il pennello, non soltanto l'aerografo, stiamo parlando di Vargas che è un sudamericano poi naturalizzato americano che faceva le copertine per playboy con le playmate disegnate, quando ancora venivano disegnate e non solo fotografate. Oppure Elvgren che era un altro illustratore americano, ecco, si erano buttati a rappresentare gli oggetti e i prodotti comuni per la pubblicità e quindi chi è meno giovane ricorda di aver visto quando era bambino la pubblicità della Coppertone con una bambina disegnata alla quale un cagnolino tirava via il costume e si vedeva la differenza tra la pelle abbronzata con questo abbronzante americano e la pelle del sederino chiaramente che era più bianca. Ecco, questo modo di interpretare la pittura anche ad aerografo ha cominciato ad essere praticato prima negli Stati Uniti e poi arrivata anche da noi. E quindi dalla semplice esigenza artistica di alcuni di questi grandi dell'aerografia e della pittura siamo arrivati ad interpretare invece la tecnica quasi ad uso esclusivo negli anni 80 soprattutto della pubblicità. Perché a quell'epoca non avevamo ancora le tecniche digitali, non c'era ancora la fotografia, il fotoritocco digitale e quindi tutto quello che si faceva, si faceva attraverso un studio, uno studio, un'agenzia e un aerografista, quindi un illustratore che rappresentasse ciò che in realtà non si poteva fare con le tecniche che invece conosciamo adesso. Ad esempio, ti faccio un esempio banalissimo, anni 80, un mio collega, un caro amico di Mestre, Guerrino Boatto, che è uno dei più grandi veramente, a livello veramente mondiale dell'iperrealismo, veniva contattato dalla Fiat per il calendario Fiat e gli veniva fatta fare un'immagine dove la croma, quando uscì la croma, veniva ambientata in una spiaggia sudamericana con palme, con mare e lui doveva fare questa immagine perché alla Fiat costava di più mandare una troupe in Sud America con la macchina e con tutto il resto, quindi l'illustratore con un'illustrazione risolveva il problema. La cosa divertente è che uscì il calendario con le 12 macchine della Fiat di quell'anno e la cosa buffa fu che il sole 24 ore uscì con il commento a questa pubblicazione che è storica parlando di 12 fotografi che avevano lavorato per la Fiat, quindi non si erano accorti che l'immagine fatta da Guerrino Boatto era un'immagine. Non era una fotografia e l'artista era sempre lo stesso. Esattamente, esattamente, per cui era riuscito a raggiungere la perfezione fotografica nonostante avesse usato l'aerografo. Ecco, io diciamo sono arrivato a questo, sono molto più giovane di Guerrino Boatto e mi sono innamorato dell'aerografia attraverso le sue immagini, facendo l'università e di conseguenza uno dei primi passaggi è stato proprio quello di cominciare a disegnare quello che disegnavano gli artisti come lui che a quel punto non era ancora un'esigenza artistica ma era semplicemente una tecnica che ti permetteva di utilizzarla nel proprio lavoro, in quel caso in pubblicità. Quindi è una, diciamo, l'iperrealismo, la cura dei dettagli, la riproduzione fedele della realtà è una caratteristica importante di questa tecnica. Diciamo che ti permette, laddove tu lo cercassi in quanto artista, ovviamente non tutti gli artisti cercano l'iperrealismo, ma soprattutto non tutti gli artisti aerografi cercano l'iperrealismo, però qualora l'indirizzo fosse proprio il realismo puro, diciamo che questa tecnica ne favorisce l'avvicinamento. Ora io alle mie spalle ho il ritratto, un ritratto che tra l'altro è un ritratto che abbiamo la fortuna di ospitare qui in studio, ma anche questo, si trova anche questo non in copertina, ma è altrettanto importante perché si trova all'interno di un altro libro uscito e venduto in tutto il mondo su Marilyn, che contiene una serie di aerografie e tra tutte anche quella di Mario Romani, che è anche questa fedelissima. fedelissima in quanto riproduzione fotografica, tra virgolette, della realtà, ma non esente di un concetto, di un racconto, di una narrazione. Io vedo, non si può fare a meno di vedere la forma, diciamo, di puzzle che è dato alla Marilyn, è un artista, un pittore, che ne dipinge quasi un cartellone, anche qui una pubblicità della Marilyn che noi tutti conosciamo. Cosa c'è all'interno di questa illustrazione, di questo disegno? Ma anche qui, vedi, c'è un discorso legato al fatto che ho avuto la fortuna di concepire questa idea e di farla per conto mio, quindi non c'è un cliente che ha commissionato questa immagine, è arrivato dopo quando l'ho fatta, che loro me l'hanno acquistato, ma dal punto di... Sempre come cade quasi sempre. In realtà, anche in questo caso, avevo trovato una bella foto di Marilyn, perché se ne trovano tante, e mi sarebbe piaciuto appunto rappresentarla per quello che era la sensazione che lei dava a me, avendola conosciuta marginalmente, perché quando lei scomparve io ero ancora bambino, però se ne parla ancora come se fosse attuale e ancora assolutamente in vita, come tutti poi i grandi icone. E di conseguenza ho immaginato di rappresentarla con questo puzzle, che in parte spiega quelle che sono le nostre sensazioni di questo personaggio non del tutto risolto, non del tutto conosciuto, non del tutto finito. E in basso c'è... Anche forse un po' un personaggio, scusami se mi permetto di aggiungere una interpretazione, anche un po' la costruzione, il valore del personaggio costruito. Sì, esatto. E poi c'è questo pittore in basso che in realtà con... Intanto nella sua posizione in basso così rappresenta un po' quello che è tutto l'immaginario maschile, nel senso noi uomini ancora adesso guardiamo Marilyn come immagine dal basso verso l'alto, no? Perché ha, diciamo, ha ispirato e fatto sognare oramai quattro generazioni di uomini. Continua ancora. Affascinando anche poi le donne perché molte si sono ispirate al suo personaggio e continua tuttora. E quindi la posizione in basso. E poi questa parte, diciamo, con l'acqua in basso che un pochettino sgretola e si porta via piano piano le fondamenta del palazzo dove lei è disegnata e che è un po' la rappresentazione della sua vita che è stata spesa velocemente e bruciata e portata via per tutta una serie di contraddizioni sue, umane, psicologiche, eccetera. Per cui, ecco, queste cose qui immaginate rappresentate in questo modo. Tra l'altro, a guardarlo così, ma sicuramente sarà una visione fantasiosa, una delle letture potrebbe essere una Marilyn che è icona, che sorge dall'acqua come fosse appunto la statua della libertà e infatti l'artista, diciamo, in quello che dipinge sembra proprio la città, il contorno della città, della metropoli. Questa potrebbe essere... Potrebbe essere un ulteriore, pensa che non ce l'avevo neanche pensato. Esatto. In realtà lì ti posso dire una cosa, qualcuno l'ha letta anche in un altro modo perché non si capisce bene se lui sta disegnando la Marilyn o lui la sta cancellando, nel senso che lui sta salendo verso l'alto ma non si capisce se lui è sceso e l'ha disegnato oppure se sta imbiancando per cambiare l'immagine di quel palazzo, come succede soprattutto all'estero, no? Vai nelle grandi città, New York è famosa per questo, ci sono questi grandi palazzi dove ancora, contrariamente a quello che succede da noi, ancora ci sono delle troupe che vanno su con i cestelli e con i ponteggi. Tra l'altro di un progetto di valorizzazione urbana di zone dislocate magari, che a mio avviso è molto interessante se venisse fatto anche qui con maggiore frequenza perché a volte ci sono questi progetti però sarebbe ancora più interessante. Va bene, mettiamo da parte un attimo questa riflessione. Alla mia destra un'altra illustrazione altrettanto importante è che si ricollega al discorso di un iperrealismo, quindi di una riproduzione fedele della realtà. Io non so se si vede bene alla telecamera, è visibile, la cura e i riflessi della luce sulla tuta di pelle di questa graziosa signora, diciamo. In realtà è frutto di uno studio molto attento e molto curato che tu hai fatto, no? Sì, è il frutto di studio ma soprattutto anche è il frutto della finalità alla quale poi mi sono dedicato per arrivare a questo risultato perché in realtà questo è un lavoro realizzato all'interno di un corso avanzato con degli allievi dove tra le tematiche c'erano lo sviluppo dell'incarnato ad aerografo tutto a mano libera, quindi la parte della schiena è tutta fatta a mano libera senza mascherature, senza nulla e la resa dei riflessi su una superficie lucida come potrebbe essere la pelle o la similpelle in una tuta diciamo anche di lacra o comunque di una tuta lucida che è una delle cose che hanno caratterizzato soprattutto negli anni 80-90 le illustrazioni degli stranieri che arrivavano in Italia con le loro opere in Italia sono diventati famosi personaggi come Aime Sorayama che è un illustratore giapponese bravissimo che arrivò in Italia e venne conosciuto per la pubblicità perché aveva fatto lo storyboard della pubblicità della Y10 quindi stiamo parlando proprio di tantissimi anni fa lui aveva lavorato in pubblicità e venne conosciuto per quello perché aveva realizzato uno schermidore che poi era stato animato da un studio di animazione che faceva da trailer a quello che era poi lo spot del lancio della Y10 ma lui in realtà era specializzato nell'iperrealismo quindi non soltanto delle parti metalliche ma anche del corpo umano e dei tessuti, delle texture di conseguenza ai corsi che io faccio in questo caso mi avevano chiesto di sviluppare questo tipo di tema quindi abbiamo preso una foto normalissima altrettanto in bianco e nero da un giornale e poi abbiamo provato a realizzarla e queste sono tecniche che io insegno in realtà l'osservazione, la conoscenza dello strumento e chiaramente la conoscenza del supporto dove andiamo a spruzzare il colore nonché la conoscenza delle caratteristiche e dei colori ti permettono con un po' di manualità di arrivare a questo risultato e queste sono le cose che io insegno e che alla fine non sono così lontane da quello che si può fare dopo qualche lezione e domani scopriremo proprio come si tratta uno strumento come si tratta un aerografo come ci si approccia alla manipolazione di questo strumento quali sono le tecniche e anche come è composto d'accordo grazie mille per essere stato qui saluto il nostro pubblico mi raccomando domani sempre alla stessa ora Mario Romani e Diarte ciao a tutti grazie a tutti